Ciao ragazzi siamo al Carmenere, dove siamo? Cioè in che paese? Ho capito che siamo al Carmenere, in che paese sono? San Sisto. Siamo a San Sisto, non so neanche dove sia, però vicino all'autostrada. Vicino a Tapa Sport, l'autostrada a Treviso No. Siamo stati sfortunati e ci siamo capitati vicino all'ora di chiusura, perché l'avevamo già chiuso, perché chiudiamo a mezzanotte, quindi se venite a queste parti non venite dopo mezzanotte, e abbiamo dovuto quindi solo due prosecchi. Però erano buone, effettivamente. Erano buone sì, però non abbiamo avuto modo di sperimentare altro. Questo è uno di quei posti dove si beve buon vino, è una Enoiteca. 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 Che a Fabio piace tanto dire queste parole. Da morire. Enoiteca. Sembra un pazzo quando fai quelle facce, vedi? Vuoi che faccia vedere fuori anche le venute? No. Quanto sono costati due prosecchi? Sai che non lo sai di scontrino tu, però meno di 5 euro. Due euro, due euro l'uno. Sì, una cosa del genere. Il prosecco risato non è. Il prosecco è carino, pare che si beva parecchio bene, nel senso il prosecco era buono, ma ci sono anche... Sulla lista di vini ho notato anche il Ferrari. Ecco, c'è il Ferrari per l'è. E poi ci sono delle cene al tartufo, e almeno ho letto così velocemente un bigliettino che c'è da sopra, lì c'è una cassa, la cassa c'è al tartufo. Il Carmenere è consigliatissimo. Sì, ci è piaciuto. Forse è il caso di ritornarci in un momento di più. Sì, per conoscerlo meglio. Ci sono 3, 3, 6... Se vuoi offrirmi la cene al tartufo, costa solo 60 euro. Dicevo c'è una dozzina di parcheggi auto. Adesso parte con le sue chicche di... Che danno direttamente sulla strada però, quindi... E attenzione che non vi parla dell'architettura del locale, perché vi siete salvati. Non c'è una grande architettura, però l'arredamento è interessante. Ecco. Sono i fulmini e le salette che mi girano quando mi cazzo conto. Beh, dal Carmenere è tutto ragazzi. Ciao a tutti e buona jury night. Ciao. 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 Di là c'è l'ancinico e di qua c'è... E non ti parlo, un app su se lascia. Un po' vicino a casa di casa, perché non so se non c'è tutto che io un'aere vicino a casa di casa, perché se voi volete venire a vedere qualcosa di buono, io non chiamo a casa di nuovo. E vi auguro da me. Vedete? Vabbè, questo se potete è possibile. Ciao. Ciao. Ciao.